Vediamo se funziona Ok, ripartita Devo tenere sott'occhio Scusate, facciamo una cosa così Ok, pare che adesso funziona Che annuncio Che annuncio Ok Invece l'Ardie 6 si è l'ingegnata Ha sconfitto Trunks Oh no, Vigita Avanti, Vigita, svegliati Tu, Vigita, mi avete davvero deluto Sperate di divertirmi un po' di più Un'ottima domanda Anche se alla fine siete inutili Siete riuscite a potenziarvi in brevissimo tempo Se avessi abbastanza tempo a disposizione Riusciresti ad ottenere una forza ancora maggiore Difficile di loro senza provare Perché? Quindi c'è ancora questa possibilità Un'altra domanda Cosa sta facendo Goku? Come mai non ti hai fatto vedere? Goku si sta allenando per sconfiggerti Domani verrà a combattere contro di te Sono certo che lui sarà in grado di sconfiggerti E credo nelle sue capacità Ottima risposta Allora Organizzerò un torneo di arti marziali Un torneo? Riuscirò Joni Game Game Riccordi Romano Va Mi Grazie a tutti. Grazie a tutti.